L'informa della comunicazione pubblica, ne parliamo venerdì dalle 12 alle 13 in un webinar performance. Io ho l'onore di presiedere una commissione istituita dal Ministro della pubblica amministrazione e inserita nel quarto piano per l'open government. È una commissione che mette insieme le associazioni dei giornalisti e dei comunicatori e le rappresentanze dei comuni e delle regioni italiane. Stiamo discutendo di quali possano essere i contenuti e ne parleremo appunto in questo webinar e insieme a me ci saranno Francesco Di Costanzo, Presidente di Pia Social e Piercarlo Sommo, Segretario Generale di Compubblica. Sono due dei protagonisti di questa commissione ed è importante esserci, partecipare, collaborare per fare in modo che il treno che sta per partire arrivi a destinazione in modo rapido ed efficace. Grazie a tutti!